Siamo a Modena, presso la sede della Fondazione Marco Biaggi, dove incontriamo Patrizio Di Marco, un ex studente della Facoltà di Economia, ora in partimento di economia Marco Biaggi, che festeggia solo 50 anni dalla istituzione. Due brevissimi ricordi che ci riportano al direzionale 70, dove la Facoltà aveva la sua sede. Un giorno Patrizio Di Marco dice io voglio andare un anno in Giappone. Detto e fatto. L'anno dopo torna, frequenti il quarto anno, perché quando uscì lui era il terzo anno del corso di laurea in Economia e Commercio, torna il quarto anno, frequenti i corsi, settimane gli esami e prepara la sua tesi di laurea, la filiale nello sviluppo internazionale dell'impresa. Torna la periflu poi cominciare l'intervista. Grazie, grazie. Beh, innanzitutto adesso dopo questa presentazione, quello che ti chiedo per prima di raccontare un po' le parti del tuo percorso professionale. Io penso all'espressione massima della confusione, avrei voluto fare il pittore o il disegnatore di strumenti, poi mi sono reso conto che non avrebbe mai pagato questo lavoro, non avrebbe mai pagato i conti, le bollette, quindi un po' ho torto collo, non volendo fare giurisprudenza perché mio fratello, che infatti era un avvocato, faceva quella facoltà, scelse Economia, quindi assolutamente senza un obiettivo specifico. Nel corso degli anni capì che volevo fare un qualcosa che avesse al centro un prodotto o avesse un consumatore. Il marketing era il modo in cui io pensavo e sentivo di poter esprimere questa mia creatività da disegnatore, diciamo, perché è una cosa, ed è il marketing dell'argo consumo. Al tempo era un'azienda tessile più importante d'Europa, ormai defunta, purtroppo, che si chiamava GFUT, al secolo gruppo finanziario tessile, e mi chiama dicendolo, noi avremmo un'azienda piccola, delle tue parti, nello sportswear, che abbiamo comprato due anni fa. Due ottime scuole, ma soprattutto parli giapponesi, perché abbiamo appena fatto una joint venture con la Mitsui Busan, la Mitsui Trading, una delle principali ancora adesso trading ai giapponesi, avremmo bisogno di questa persona che vada a livello a Tokyo, li segua nella definizione, li segua, praticamente li diriga nella definizione dei marketing plans, faccio il controllo della produzione, la parte di produzione licenziata, quindi un discorso di prodotto anche. Io sentivo questi signori e mi domandavo se fossero completamente matti o che cosa, perché stavano offrendo a, di fatto un neolaureato, di prendere una posizione che normalmente ti capita di avere molti anni di lavoro. Quindi vado a vivere in Giappone, purtroppo dopo tre anni GFT vuole ritirarsi. Allora, un ragazzo di 28 anni, che non ha nulla se non sul suo pedigree, che questi due anni e mezzo ho vissuti in una piccola azienda, perché tutta la City Company era un'azienda da 50 milioni, quindi ovviamente era una porta a parte del Giappone, quindi un microbo, diciamo così, nel panorama. Mi dimentico, quindi, senza un lavoro. Ovviamente riprovo un po' con la, non dico supponenza o arroganza, ma forse l'iperottimismo del 28enne e dico ma no, sicuramente troverò un lavoro. Altri 27 curriculum mandati e 26 no. Stavo incominciando a preoccuparmi, ero peraltro anche già sposato, quindi non ero neanche solo, a preoccuparmi fin tanto che un signore, che Dio lo abbia in gloria, al secolo Ichiro Taniuchi, della Egonzender, mi chiama e mi dice, avremo una piccola azienda italiana che ha una serie di negozi infranciali sul Giappone. Che azienda è? Prada. Prada era totalmente inesistente, sta parlando di quando l'azienda, nel 1990, quando l'azienda fatturava 45 miliardi di lire. Contemporaneamente, attraverso però un amico, un giornalista della Repubblica, avevo avuto il piacere di conoscere un altro grande del settore che si chiama Pino Crusona, allora amministratore delegato da Giorgio Armani, che mi fa appunto conoscere il signore Armani e quindi dopo uno di questi viaggi sono oggetti che esistevano al tempo, perché non c'era la linea, quindi facevi un bellissimo scalo a New Delhi alle 4 di mattina dal Giappone che arrivava dopo 18 ore, tutto stonato a Milano. Io faccio nella mattina questo incontro con il signore Armani e nel pomeriggio questo incontro con questa persona completamente fuori che dice una parolaccia dopo l'altra, questa persona è il Bertelli, Patrizio Bertelli e questa è stata la seconda volta in cui esco dalla mia potenziale comfort zone, quindi Armani, si sta tornando Armani 1990, era del non plus ultra, era il nome, era il marchio più importante del mondo della nuova e decido di andare a lavorare per questa piccola azienda, rimanendo un centone e da lì dopo due anni, dopo aver intervistato tre anni circa, dopo aver intervistato tutte le possibili persone, Bertelli aveva intenzione di aprire il mercato americano, intervista tutto il management potenziale che c'è sulla faccia della terra, quindi non era la sua prima scelta, a un certo momento arriva dal nuovo luogo attenente, cioè dal Di Marco e dice Di Marco avrei pensato a lei con l'America, io sapevo che era assolutamente non vero, però risposi un secondo sì, e così andai in America dove mi sono fermato ancora con Prada, ho perso l'ufficio, non esisteva Prada in America, quindi negozi, shopping, shopping, department stores, quindi quando sono uscito da Prada, perché poi tutti i diamori a un certo momento finiscono, fino al 98 l'azienda era circa 250 milioni di dollari e c'erano circa 500 persone. Lascio Prada anche lì senza avere, di fatto abbiamo mitigato tra virgolette, era ancora una fase in cui io sono sempre stato molto passionale, quindi mi innamoro delle aziende, o comunque mi sono voluto al futuro di innamorare di certi marchi. Si presenta Armani, che di nuovo mi fa un'offerta, però succede per l'ennesima volta che faccio una scelta diversa da quello che secondo me la razionalità avrebbe dovuto portarmi. Penso che sia arrivato il momento per cui, come dire, debba andare a lavorare in un'attenda strutturata. E quindi decido di andare, faccio uno step back, quindi non sono più Presidente, mi è stato delegato, sono il numero due, diventi il numero due della Louis Vuitton America. E lì imparo la disciplina dei numeri. Louis Vuitton, che al tempo era già l'azienda più grande del Lusseran, sto parlando del 98, era circa 2 miliardi e mezzo di euro. E c'erano dei processi e delle procedure estremamente codificate. E c'era anche la, come si dice, le lotte di potere, la politica aziendale, la politica nell'azienda. Quindi, cosa, burocrazia, tutti aspetti che non mi piacciono nemmeno a mente, ma che fanno anche quella esperienza. Alla fine ero abbastanza stanco. Ho una telefonata da Domenico Del Sole, che era al tempo il Presidente, e amministratore delegato di Gucci Group. Io spero che mi assegni un ruolo, qualunque ruolo, dentro la Gucci. Ero un po' stanco di essere allesso e soprattutto poi volevo ritornare i miei genitori a una certa età. Ho già passato 14 anni tra Asgard e America. Mi chiama e ho questo incontro a Londra, Grafton Street, con lui e Tom Ford, e mi chiedono di gestire gottoria veneta. Mi metto la mano davanti agli occhi e gli devo dire un'altra storia da zero, perché tutta la mia vita è stata connotata da start up oppure da situazioni da mettere a posto. Devo dire che poi è stata una stupenda esperienza. Per me Bottega era l'azienda con cui volevo andare in pensione. Un giorno mi viene a trovare François Riepinot, proprietario del gruppo al tempo più piano, Ora Care, di cui appunto Bottega era, come si dice, una delle aziende, e mi dice ho bisogno di te per gestire Gucci. Sinceramente non ci volevo andare, ma non solo perché Gucci era molto più grande o complicata, soltanto e specificamente perché pensavo appunto che Bottega fosse la mia casa. Come un po' l'esercito, quando ti chiamano a guidare il flottone più importante, non puoi ritirarti. Abbiamo fatto anche lì ottime cose. Peraltro mi è capitato di fare l'errore che non si può mai fare nella vita aziendale, cioè innamorarsi dalle persone con cui devi lavorare. E questa è la mia attuale mondo di Frida Giordini. Sto poi, come istituzione dei mercati pubblici, presento le mie dimissioni dopo sei mesi. Perché mi rendo conto che il mercato non avrebbe visto, o avrebbe potuto non vedere positivamente questa mia relazione con Frida. Il gruppo Kemi e François Riepinot decidono di accasare il sottoscritto e Frida. Quindi il primo anno del mio post Gucci è il mio anno, finalmente il mio anno sabbatico. Per cui da allora ho fatto parte, faccio tuttora parte, di alcuni consigli di amministrazione. Ho aiutato per diversi anni, due anni e mezzo, i miei amici Domenico Dolce e Stefano Rebbana. Mi sono divertito nel mercato di massa su una possibile acquisizione dell'Uberpronby da parte di un'altra azienda americana che lei ha portato in borsa a Wall Street. E poi sono ritornato, diciamo, non esattamente come prima, ma sicuramente un ruolo più operativo da alcuni mesi, con questa piccola azienda che è stata acquisita un anno fa da Carlyle, che è Bomanos. Quindi, so che sono stato lungo, ma vi ho raccontato 30 anni di vita e quindi potremmo anche finire qua. Certo, non è basta. Direi che lo vedo tutto. No, adesso ci devi raccontare cosa hai imparato da questa esperienza. Poi l'hai già detto, però, dovendo riassumere le tradizioni per le città. Allora, io penso di essere stato bravo, ma la bravura è anche, secondo me, soprattutto una combinazione di fattori. È a livello personale grande determinazione, se vuole senso di sacrificio, soprattutto un senso di umiltà, perché non importa dove sei arrivato, devi avere la voglia di imparare. e tu la voglia di imparare e ce l'ha se sei umile. Ma sono stato anche molto fortunato che anche Guarrento Norenti, un fattore fondamentale, secondo me, del successo o del potenziale successo e una carriera nella vita, deve avere avuti dei mentors, delle guide eccezionali. E quando dico guide non sto a dire persone che mi seguissero, perché nessuno vuole fare babysitter, figurarsi nelle aziende, ma persone che io vedevo come guide e da cui ho cercato di assorbire tutto e di più. Che caratteristiche deve avere oggi un leader di una grande azienda del lusso e della moda? Che dico quello che io personalmente ritengo debba avere un leader, quindi non so, un CEO, comunque una persona che ha... e questo a prescindere dal settore. Beh, prima di tutto un CEO dovrebbe avere l'umiltà, che poi la esprime o meno non è tanto importante, ma l'umiltà di capire che da solo non va da nessuna parte. Un CEO non importa quanto sia bravo, non va da nessuna parte se non ha un team di persone in campo. Non importa quanto tu possa aver studiato e voglia continuare a imparare, c'è sempre qualcosa che qualcun altro sa fare meglio di te. E quindi la prima cosa di essere, come si dice, di fare un team, esserci con un team e lavorare un team. Se tu sei umile e hai voglia ancora di imparare e sei curioso e se hai, ripeto, se ti sei creato un buon team intorno, beh, penso che, come si suol dire, the sky is the element, cioè solo il cielo e le stelle sono una cosa rettungibile. Senza di questo non vai da nessuna parte. In tutto questo, dopo tutta questa storia e tutto questo percorso così brillante, che cosa ti è rimasto di quello che hai imparato a Modena? Ricordo, adesso non lo dico perché è il professore, il mio relatore ed è seduto qua, Tiziano. Però ecco, il fatto di parlare, perché poi se non lo vedevi nell'allora tecnica del commercio internazionale, che si detta ora presumo marketing o marketing strategico, era in modo, attraverso le sue lezioni, attraverso i testi, di vedere il mondo, il modo per… erano i primi passi, presumo anche a livello didattico, per cose che assomigliavano molto a dei casi. Mi è capitato anche di riprendere dei testi universitari, soprattutto i primi anni, perché non mi ricordavo più come si facevano determinate cose e volevo fare bella figura. Ma mi sono reso conto che poi in realtà più che la cosa specifica è il metodo. In tutta la mia carriera, ma veramente in tutta la mia carriera, non ho mai avuto la necessità, poi ovviamente ho continuato a studiare, la necessità di proteggermi dal mio CFO, perché uno dice ma è una tua persona, sì ma il CFO, il C Financial Officer sono sempre… E ci sono tanti amministratori delegati che non sanno nulla di contabilità e quindi il CFO li può raccontare quello che vuole. Io proprio partendo da qua non mi sono mai fatto… Poi mi hanno tagliato ugualmente in qualche modo, ma sui numeri non mi hanno mai furiato. Università e impresa? Sono due mondi separati? C'è un possibile incontro? È doveroso l'incontro? Cosa devono fare? L'incontro dovrebbe essere doveroso, ma penso che più che essere un problema dell'università è un problema dell'azienda. Io ho fatto, ho avuto il piacere di avere… di fare finta di fare il professore, dico far finta perché se vuoi fare il professore è un tutt'altro… è molto più nobile lavoro in questi anni all'ISI a Barcellona. Adesso non per esterofilia, perché ho parlato di Barcellona, quindi stiamo parlando sempre dell'Europa, però ho notato come da Barcellona piuttosto che in America ci sia un coinvolgimento da parte delle aziende che non solo sostengono l'università dal punto di vista finanziario, con testimonianze, con stace, ma non quelli finti. Però l'università è più una palestra di metodo. L'università è molto più bella della vita reale, nel senso che si studiano delle cose molto più interessanti di quello che è il lavoro vero. Ma non è che l'università sia falsa. Il lavoro vero è molto… si vuole molto più banale. Tra il movimento e la montagna mi sembra che sia una montagna impresa che deve andare verso l'università. E ahimè non vedo, a parte alcuni casi, non vedo tanti degli esempi in Italia. Mi ha, così, impressione. Partiamo del Made in Italy, visto che abbiamo parlato dell'Italia. Il Made in Italy è ancora un valore? Secondo me il Made in Italy è un valore, rimarrà sempre un valore. Il Made in Italy vero, nel senso che è un concetto, come si dice, di esperienze, di expertise che non nasce oggi. Il Made in Italy è, in fondo, se lo vogliamo, vogliamo dare un'accezione più ampia. In fondo il successo, il vero successo dell'Italia, dei distretti, delle competenze. Il problema del Made in Italy sono gli italiani. Ci sono delle competenze incredibili in tantissimi settori. Il Made in Italy non ha nessun problema, il vero Made in Italy. Il Made in Italy è lì ed è una delle poche cose che abbiamo. Non è stato mai sostenuto, non lo si sta sostenendo. Probabilmente scomparirà sia per la mancanza, ripeto, della capacità di fare squadra degli italiani. Sia per la mancanza di qualunque supporto a livello istituzionale, sia per la mancanza di fare squadra degli italiani. Certo. Ecco, a questo punto i grandi brand italiani della moda resisteranno alla globalizzazione? Cosa succederà? Come sono fatto io, per la mia esperienza personale? Cioè, io ho fatto 15 anni all'estero. Cioè, per me è sempre stato globale, perché mi sono sempre sentito personalmente cittadino del mondo. E poi, sai, l'italiano, e questo a prescindere dal settore, ovviamente a maggior ragione, sai, la moda, il fashion, il lusso nasce in Italia e in Francia. Cioè, ci aiuto a capire, sì, siamo globali, ma dobbiamo essere locali. Quindi, gloco, tutte quelle tante definizioni, io sinceramente le vedo da, le sento così, da un punto di vista professionale, da una vita. Certo, la storia che ci ha raccontato è una storia di successo, ma c'erano già molte premesse, gli ingredienti sono stati ampiamente ricordati, una grande apertura al mondo, disponibilità a guardare al mondo, visione, ambizione sicuramente, ma anche umiltà e spirito di sacrificio. Credo che questi ingredienti possono essere molto utili, oggi i nostri studenti e domani laureati futuri medici. Grazie a voi. Grazie. Grazie.